buongiorno a tutti ragazzi bentornati da marco zucco in questo nuovo video di carriera allenatore con lo chef united su fifa veneti scorso episodio partite la prima molto buona un parigio contro lo united della seconda disastrosa perché siamo andati a perdere contro la west ham e la situazione di classifica è questa dove siamo diciannovesimi a pari punti con il barnemount e il mio obiettivo era la champions league ragazzi e mi viene da ridere perché siamo davvero direi abbastanza lontani ma ma giusto un pochino lontani per il nostro obiettivo oggi mi vado a giocare anche la partita con il bristol city perché tanto ok oggi sarà tosta anche con il bristol tutte le partite sono toste ormai per la nostra posizione di classifica quindi andiamo a vincere andiamo a vincere ragazzi smith passa e fa una zero puttana troia cazzo e niente è finita è iniziata come è finita la scorsa c'è una merda e balia palla e mezzo ancora l'oro more tiro da fuori palo per fortuna che tiro ha fatto quello la ti da la difesa del bristol l'atteggiore qui che c'è qua me dentro qua me dentro qua me rete 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 la pareggia qua me rete 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 che la puo andare a portare in vantaggio Nel giro di 5 minuti l'abbiamo ribaltata Nel giro di 5 minuti Kwame e Douglas l'hanno ribaltata nel giro di 5 minuti Douglas Lewis 2 a 1 Chirurgico qui il tiro Finisce qui Vinciamo la nostra prima partita in Premier League Contro un Bristol forte Anche se è pur sempre una squadra neopromossa Ma per farvi capire siamo arrivati al punto Che l'anno scorso battevamo il Liverpool 4 a 0 E l'abbiamo fatto E quest'anno rischiamo di non vincere contro il Bristol E' davvero strano Siamo in sedicesima posizione E abbiamo un altro match facile contro lo Stock City Io lo vado a giocare Come vi ho detto tutti i match sono difficili a questo punto Abbiamo anche reso conto mensite dell'osservatore Ma raga io non posso prendere nessun giocatore Perché non abbiamo Al momento soldi Ho 34 euro Quindi direi di farli seguire E poi li andremo a acquistare più avanti I giocatori dalla primavera E quest'anno ho intenzione di fare la primavera Quindi ci punterò Contro lo Stock Una squadra che conosco molto molto bene Se non l'hanno venduto Hanno un bel portiere Più di 80 se non sbaglio Dovrebbe avere E quindi davvero Sarà difficile riuscirgli a far gol Finisce il primo tempo Tosta Tosta contro questa partita Ma dobbiamo vincere Non possiamo Non possiamo perdere questa occasione oggi La Sluiz E no la perde là Macias Macias 1-0 Questo è Proprio raga Questo è il peggior tipo di gol Che si può mai prendere Porca troia Cioè io tre volte a premere Spazza E questo non spazzava Perché deve fare il controllo Può aggiustarsi il pallone Ma vaffanculo va Attenzione a loro Ancora palla lì Ancora Ince C'è il 2-0 Perdiamo contro lo stock Partita contro due nevromosse Una persa L'altra Una vinta L'altra persa E nada Ok ragazzi Partita adesso contro il Watford Siamo a 17esimi Quindi a 5 punti Pari punti col Bristol E il Watford È il 12esimo Vabbè Andiamo a affrontare questi Questi gialloneri del Watford Perché Abbiamo fame di vittoria Dopo la sconfitta contro lo stock Andiamo Salva Attenzione a qui Bailey Anzi Danny Para Colar Palla lì Danny 1-0 Watford Ma la marcatura è proprio La marcatura è proprio 0 Ma io Io non capisco come si difende Cioè qua fanno un aggiornamento ogni 2x3 Ti abitui a come si difende prima E te lo cambiano Cioè Ma perché se l'allunga tanto Ma perché se l'allunga tanto Se io premo a malapena il tasto per correre Madonna Qua me Rigore Rigore Oh ci hanno dato rigore Zitti tutti Zitti tutti Zitti tutti Zitti tutti Fermi 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 Non succederà mai più Quindi Contempliamo questo momento Qua me dal dischetto Ci provo Oh e lo para Ma porca troia Oh Danny Bravo Felsion Ma finisce il primo tempo McBarnie Adama 1-1 1-1 1-1 1-1 Dai Tornato anche al gol Adama Palla dentro Gomez Bedel McBarnie Che va dentro Cioè Grealish che è solo Grealish Grealish Ti prego Grealish Mannaglia Mannaglia Finisce qui Pareggio con Watford Oh E' stato E' stato un inferno Pure questa partita qua Io non pensavo Ma veramente Ragazzi Io oramai passo leggendo Cioè Scusatemi ma Non è perché sono scarso Ma non mi sto divertendo più Non è possibile giocare così Da me è tutto Ci vediamo Alla prossima Siamo al mese di ottobre Quindi siamo già avanti Prossimo episodio Penso faremo queste tre E niente Ci vediamo In prossimo episodio Bella Da un'altra prossima Prossimo episodio